Era riuscito a sfuggire alla maxi retata della polizia di stato al collo del Pionta, ma adesso per lui sono schiattate le manette. Si tratta di un giovane pusher di origini nigeriane che, secondo gli inquirenti, si sarebbe occupato dello spaccio di eroina e cocaina nella parte alta del parco. L'uomo, fermato a Castiglion Fibocchi per un controllo da parte dei carabinieri, è infatti risultato colpito da un ordine di arresto. Per lui così si sono aperte le porte del carcere Aretino di San Benedetto. Dunque è stato catturato un altro fuggitivo dell'operazione della squadra mobile di Arezzo Duomo Vecchio, al termine della quale finirono in manette decine di spacciatori, tutti di origine africana, tra i 20 e i 30 anni. Domani, intanto, davanti al giudice del Tribunale di Arezzo, compariranno coloro che hanno scelto il rito abbreviato, procedimento che consentirà così agli imputati di evitare la fase dibattimentale e di ricevere lo sconto di un terzo dell'eventuale pena. Già incardinato invece il procedimento per i 13 spacciatori che hanno scelto il rito ordinario, anche se per entrare nel vivo del processo con la prima vera udienza si dovrà attendere il prossimo 5 dicembre. In questo caso la battaglia si giocherà tutta sulla distinzione, fa primo e quinto comma della legge antidroga, ossia la modica quantità che se dovesse venire applicato potrebbe portare a condanne ben più leggere. Da escludere invece sarebbero le assoluzioni, i pusher infatti furono quasi tutti presi mentre spacciavano.